Ciao a tutti ragazzi per questo nuovo video, io sono lorais07 e oggi vi farò vedere come scaricare le hack su minecraft Dovete avere playstore, scaricate però se voi non lo avete ancora, però credo che tutti lo avete Dovete cercare tallbox, voi lo installate, io lo tengo già installato, questo qua è una vecchia ormai Però comunque a volte se a voi non vi arriva la versione giusta è perché io sono in una versione un po' più vecchiotta Però comunque perché sono nella 1.16 ancora, poi forse me lo aggiornerò a minecraft, non lo so ancora Vuol dire aprite tallbox for minecraft p, poi ragazzi voi la dovete aprire e così aprite le hack ragazzi, è semplicissimo Avrete questo e potete fare tutto Boh, che avete tutto Poi ragazzi spero che questo tutorial piccolo piccolo vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale E ciao!